Canto 32 Canto 32 Canto 32 Girando dietro la propria insegna e proteggendosi dietro gli scudi e prima che essa possa girarsi tutta, il movimento deve essere graduale. Nello stesso modo i 24 seniori che precedevano la processione ci passarono tutti innanzi, prima che il carro cominciasse a voltarsi piegando il timone. Poi le virtù ritornarono accanto alle ruote del carro ed il grifone mosse il carro sacro così dolcemente che nessuna delle sue penne si mosse. La bella donna, Matelda, che mi aveva fin lì guidato, Stazio e io, seguivamo la ruota destra del carro, quella che nel suo movimento compiva un arco minore. Dato che il carro girava appunto verso destra, percorrevamo a passo, disposti in tale ordine, la profonda selva vuota di abitatori, per colpa di Eva che prestò fede al serpente, mentre i nostri passi erano regolati da un canto di angeli. Ce l'avamo allontanati forse tanto spazio quanto ne suole percorrere una saetta in tre tiri d'arco, quando ad un tratto Beatrice scese dal carro. Io sentì mormorare da tutti quelli che componevano la processione il nome di Adamo. Poi si dispersero a corona, attorno ad un albero del tutto privo di foglie e di fiori in ogni ramo. La chioma di questo albero, il giro dei suoi rami, che tanto più si allargava, tanto più si elevava in altezza, sarebbe stato oggetto di meraviglia anche nelle foreste dell'India, famose per l'altezza dei loro alberi. Beato sei tu, Grifone, che con il tuo becco non strappi da questa pianta alcun dolce frutto, poiché causa dolori di ventre a colui che li mangia. Così, mentre i componenti della processione gridavano tali parole, il Grifone rispondeva. Così, osservando l'obbedienza della volontà divina, rispettando quest'albero, si conserva il principio fondamentale di ogni giustizia. E rivolto al timone del carro a forma di croce che egli aveva tirato, lo trasse ai piedi di quell'albero privo di qualsiasi foglia e fiore, e poi lasciò legato quel timone alla pianta tramite un ramoscello di essa, come le piante terrene in primavera, quando piove, e la luce del sole viene sulla terra congiunta con quella della costellazione dell'Ariete, che segue immediatamente la costellazione dei pesci, si gonfiano di linfa e di gemme, e poi ciascuna rinnova i colori delle sue foglie e dei suoi fiori, prima che il sole si congiunga con la costellazione del toro, ossia prima che sia passato un mese. Allo stesso modo, la pianta che prima aveva rami così spogli, si rinnovò, mettendo fiori di un colore intermedio tra le viole e le rose, ma più vivo di quello delle viole. Io non lo capì, né certamente è uno di quelli che si cantano qui in terra, l'inno che le anime della processione cantavano, né io resistetti a sentire tutta quanta quella melodia, poiché fui sopraffatto dalla sua dolcezza. Se io fossi capace di descrivere come si chiusero per il sonno gli occhi spietati e inesorabilmente vigilanti di Argo, mentre udiva Mercurio cantare la storia e gli amori di siringa e di pan, occhi ai quali costò così caro il continuo vegliare, io come un pittore che dipinga con un modello davanti, racconterei come accadde che mi addormentai. Comunque sia, chi vuole descrivere il modo in cui io mi addormentai lo faccia, io non lo so, né proverò a spiegarlo. Quindi procederò oltre a descrivere invece come mi svegliai e dirò subito che un vivo splendore mi squarciò il velo del sonno che mi offuscava i sensi e una voce che mi chiamava e mi esortava a svegliarmi, era la voce di Matelda, mi diceva «Alzati, che fai?» Come a vedere i fiori appena sbocciati nel melo che rende sempre ghiotti del loro frutto gli angeli e fa sì che essi facciano perpetuo convito nuziale nel cielo. Nello stesso modo, gli apostoli Pietro, Giovanni e Giacomo, condotti da Gesù sul monte Tabor, dove assistettero alla trasfigurazione, videro quindi i primi fiori, cioè il preannuncio della visione di Dio. Ne furono poi vinti cadendo assopiti e furono svegliati dalla parola di Gesù. Quella parola che aveva rotto ben altri sonni, richiamando addirittura in vita i morti. Al loro risveglio videro che la loro compagnia era diminuita di Mosè e di Elia, che prima erano apparse i lati del Cristo trasfigurato, e videro anche il loro maestro non più risplendere di luce ed in veste candida, bensì nel suo aspetto consueto. Così, come i tre apostoli mi destai, e vidi che stava sopra di me Matelda, quella pia che prima aveva guidato i miei passi lungo e lete già dall'altra sponda. E tutto timoroso di essermi abbandonato, dissi «Dov'è Beatrice?» Per cui è là. «La puoi vedere sotto l'albero rinnovato di fronde, seduta ai suoi piedi, e puoi vedere anche le sette donne rappresentanti le sette virtù che la circondano. Tutti gli altri componenti della processione se ne salgono in cielo seguendo il grifone con un canto più dolce e più ricco di profondi concetti, di quel che tu potrai mai udire. Non so se il discorso di Matelda si protrasse più a lungo, perché io stavo già con lo sguardo fisso a Beatrice, la quale mi aveva precluso la possibilità di concentrarmi su qualcos'altro. Lei, come una custode del carro trionfale che avevo testè e visto le gare dal grifone, sedeva sola. Sulla terra nuda la circondavano sette donne, le sette virtù, le quali tenevano in mano i sette candelabri che non avrebbero potuto essere spenti neppure dai più violenti venti della terra. Resterai qui nella selva per poco tempo, poi sarai con me, abitante per l'eternità di quella Roma celeste di cui Cristo è cittadino. Quindi, essendo tu già salvo e per il bene dell'umanità traviata dal peccato, osserva ora il carro. Descrivi quello che vedi dopo che sarai tornato al mondo. Così disse Beatrice Ed io, che ero pronto ad ubbidire umilmente i suoi ordini, rivolsi la mente e lo sguardo a ciò che essa aveva voluto intendere. Un fulmine, quando è disceso dalle regioni più alte dell'aria, dove hanno origini e fenomeni atmosferici, non è mai venuto fuori da una densa nube così velocemente e con tale violenza, come io vidi in quell'istante piombare lì, sull'albero, un'aquila che ruppe parte della scorza. E spezzò anche fiori e foglie, appena rinnovate. Essa colpì il carro con tutta la violenza di cui era capace, per cui quello si piegò come una nave in tempesta sopraffatta dalle onde, ora dal fianco destro, ora dal fianco sinistro. Poi là, vidi avventarsi contro il fondo del carro trionfale della chiesa una volpe, che mi appariva non essersi mai cibata di buoni alimenti. Allora Beatrice, rimproverando la volpe per le sue abominevoli e contagiose colpe, la spinse alla fuga con tale velocità quanto la sua stessa estrema magrezza le permetteva di correre. Poi vidi scendere di nuovo l'aquila dal luogo stesso dal quale era venuta prima e lasciare le proprie penne nel carro, e questa volta l'aquila imperiale lasciava parte di sé alla chiesa, e come una voce addolorata che esce da un cuore che si rammarica, così uscì dal cielo una voce simile e disse «Oh barca di San Pietro, come sei carica di merce funesta!» Poi mi parve che la terra si aprisse tra le due ruote del carro e vidi uscirne un drago che conficcò la coda attraverso il fondo del carro, e come una vespa che ritira il pungiglione, quello ritraendo a sé la coda demoniaca estrasse e portò via parte del fondo del carro e se ne andò serpeggiando bel bello. Quello che rimase del carro, così come la terra fertile, se viene abbandonata e lasciata incolta, si ricopre di gramigna, si ricoprì delle piume lasciate dall'aquila, le quali erano forse state offerte con intenzione giusta e buona. E di piume ne furono ricoperte le due ruote ed il timone del carro, in brevissimo tempo, un tempo che è minore di quello che la bocca impiega ad emettere un sospiro. Così trasformato, cioè prima mutilato, poi ricoperto di piume, il carro mise fuori da ogni sua parte sette teste, tre sopra il timone ed una per ciascun angolo. Le tre teste del timone avevano corni simili a quelli dei buoi. Invece le altre teste, quelle degli angoli, avevano un corno solo per ciascuna fronte. Un simile mostro non fu mai visto prima. Sicura di sé, come una rocca situata nella cima di un monte, mi apparve seduta sul mostro una meretrice di scinta e con gli occhi che si muovevano qua e là invitanti. E dritto di fianco a lei, in atto di guardarla affinché non gli fosse tolta, vidi un gigante. Di tanto in tanto i due mostravano di andare maggiormente d'accordo ed allora si baciavano. Poi, per il fatto che la meretrice rivolse lo sguardo verso di me, quel crudele amante la flagellò dal capo ai piedi. Dopo, pieno di timore ed inatteggiamento crudele per l'ira, disciolse dall'albero a cui il grifone lo aveva legato, il carro divenuto mostro, e lo trascinò per la selva tanto che questa solitaria foresta mi impediva di veder sia la meretrice che la strana belva.